Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità su disposizione dei vigili del fuoco per un cedimento del manto stradale, ci sono chiusure su via di Villa Panfili, sono deviate le linee di bus 710 e 982, le altre notizie via dei fori imperiali oggi è isola pedonale con la deviazione delle linee di bus lì normalmente in transito, sul litorale sono attive le linee mare 0707 limitata e 062 per le spiagge di Ostia e Torvajanica, questa sera a Capannelle il concerto di Calcutta con possibili rallentamenti nell'area, il piano mobilità e trasporto pubblico per l'evento è su romamobilita.it, infine da domani lavori sulla rete fognaria di via di Valle Aurelia sarà limitato il percorso della linea di bus 495.